Te lo do io l'amplice con il nano, fai i sporcellamenti, il rapporto aperto, ce lo do io il rapporto aperto a quello, il rapporto a mano aperto, la schiaffa, la legge baston, la legge affastumata, ci fa, ci fa, ci fa, i fratelli qui trovi, ma no! Che fai? Che fai? Vi inguattate dei sotterpucci per gli scampi? Che fai? 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 Ma questa è roba giusta, un ospite primissima, roba mia personale, vai tranquillo. No, questa è droga pesante, sa che... Che pesante! Stai attento ai droghiere che ti strappa tutti i capelli, guarda come hai ridotto il mio fratello. Ma che ridotto che sembra un fiore, dai! Mi fa schifo a me che è suo fratello, dai, levati di mezzo. Vai vip che ti riducono... Va bene, dammi dietro la mia... Questa è sequestrata, va che c'è mio chiesa, va che c'è mio chiesa! Levati di mezzo, parole di torscatenati ti spettaccia! Sequestrata? Ti spettaccia! Che fai? Che fai? Che fai? Guarda, i babb si fa il salto di vento e c'è di una tolpa! Tu fratello Procci, un altro drogato! Non nega scemo! Non reagire, vieni a casa, guarda, ti ti ricordo! Non nega scemo! Tolione! Cosa, 220e, 60e, 200e!